A me piace un'idea di una squadra aggressiva che domini la partita e che rispetti i principi di gioco. All'interno dei principi di gioco devono essere esaltate le caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e psicologiche dei calciatori. Questa è la mia idea di calcio, quindi un calcio aggressivo è fatto di dominio, di dominio della partita. Questo è quello che cercherò di trasmettere e di dare quest'anno alla squadra. C'è una particolarità nella mia vita, io ho fatto per tanti anni rappresentante di scarpe, di calzature e per andare nelle Marche non passavo da Bologna, passavo da Arezzo, poi venivo giù per Val di Chiana, uscivo a Bettolle, facevo il lago Trasimeno, qui Ferro di Cavallo e poi Foligno, acqua e scendevamo giù a Civitanova Marche. Spesso la sera quando ritornavo a volte c'era il Curi illuminato, perché ogni 15 giorni lo facevo questo, per 15 anni, anche 18-20 anni. E a volte guardavi il Curi e io allenavo in promozione in eccellenza e lo guardavi passando veloce, a volte ho visto delle partite di serie A qua, delle partite di serie B, e quindi lo vedevi sempre come una cosa da raggiungere e poterti immaginare ora di allenare e essere su quella panchina ed esserci arrivato attraverso il lavoro, il sacrificio, l'impegno, la passione, è sicuramente motivo di soddisfazione. Per me questo è importante e quindi voglio aprirci una bella storia e voglio determinare questo. Grazie a tutti.